ben tornati ragazzi mi sentite credo di si vabbè perchè sto partendo da qua dovrei partire da qui comunque ho messo la scrittura qua sopra forse meno fastidio perchè sotto vabbè l'ho messo qua sopra diciamo che vabbè niente questo è Geometry Dash io sono disaventato qua 64 non 74 e oggi dobbiamo fare il canto lego da notare la mancanza dell'apostrofo bene bella partenza questa è la cosa biazzi o Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima